Il programma non ne sono conoscenza neanche io, comunque c'è un appuntamento che è importantissimo a fine febbraio, sono quattro giornate che è organizzato da Zero Waste, che è un'organizzazione mondiale e il fatto stesso che sia stata scelta Napoli come sede per questo incontro è di fondamentale importanza. Credo che la partecipazione di tutti sia essenziale perché tutti dobbiamo portare innanzitutto la voce della campagna, la voce della campagna sana a questo incontro che sarà appunto internazionale daranno persone a tutte le parti del mondo. Quindi vi invito ad informarvi, visto che in questo momento non stavate dovevi parlare, non ho più come le date, neanche esattamente le sete, il 18, 19, 20 e 21 ma comunque basta informarsi sul sito di Zero Waste e... Dove si fa? Dove si fa? Guarda, basta digitare su Google e Zero Waste e quindi poi mantenersi informati sulla pagenda. Grazie.